Guarda che diventa rossa, rossa, con il regalo di Winnie the Pooh Poi dopo le apriamo, vedi chi ha? Ma lo so, Diego Questo è di Diego Diego, Mario, Giorgio e Andrea Le mani, le mani, le mani Oh ma perché c'è? Giulia, scantalo di qua che ti faccio il filmino Brava, brava Non l'ho ancora vista E fammela vedere Puzzapig 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 Ah certo, per te Sofiane è anche un regalo, come sei stata arida, quello te l'ha fatto Davidino quello lì, davvero? Sì, davvero, 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 mi sono scelto lui, sono scelto io, Giulia è da parte mia, mine è un bacino, è bello, ma la fa questa, non è più casinato, i ragazzi, chi sono? Giulia, chi sono? Giulia, chi sono? Giulia, non chiamo Bello, non chiamo Bello, non chiamo Bello, ma fai, c'è Bello, 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 ti è piaciuta, che bello, Giulia, ma vieni tu di tutti che ti piace la conoscenza, è un più bello, c'è il terremoto, fai vedere a papà, vieni, è una cosa bella, ciao a tutti, sono Davide, benvenuti, è un altro episodio di game, no, di 0023master, ciao a tutti